Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita in Dire Billions, missione la palude corrotta. Siamo a difficoltà 500, abbiamo evitato la prima ondata e la seconda adesso l'abbiamo risolta bene. E' la seconda volta che faccio questa missione, l'ondata che nello scorso episodio è stata una cavolata, il secondo episodio del primo tentativo è stata terribile, cioè c'erano molti più infetti, a me non sembra averne eliminate così tanti, forse queste qua sono effettivamente fondamentali, tra l'altro hanno un sacco di vita adesso perché io ho aumentato pure la vita, quindi molto bene, molto bene, però due non ne servono, quindi la distruggo, distruggo, distruggo tutto, sì, via le torri. Allora, queste due sono in un punto terribile perché potrei farci un sacco di case, quindi approfittiamo del momento di calma relativa per farci altre case. Allora ci posso fare ben questo numero di case, che non ho contato. Perfetto, così la gente non passa e non può reclamare il suo cibo. Che è finito. Allora, aggiustiamo quello che devono aggiustare, che non so cosa sia. E andiamo qua di cibo. Allora... perfetto. Allora, qua si può pure pescare... Quindi lo farei perché così a occhio mi sembra una buona fonte di cibo e pesce su questa mappa. Perfetto. Ah, questo è il bordo mappa. Allora, così. Allora, questo è il bordo. Qua aspettiamo un secondo. Qua possiamo fare altre robe. Dunque, qua il limite è così. Quindi possiamo fare altre case qua. E basta. Qui? Qui? Ok. No, non è vero che sono in trouble. Sono in trebor. Quel frutto, quel frutto del moccio. Piano, 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 perché qua devono essere sottoposti overrun velocemente. Chi è morto? Ok. Ok. E questi? Ok. Ok. Gruppo centrale va da là. Ok. Dobbiamo recuperare il centro. Ma va bene. Ma sta roba da dove arriva? C'è milioni e milioni e milioni di tizi. Allora. No, ce la facciamo forse anche senza rinforzi. Ora, con rinforzi, spingiamo giù. Ok, questa composizione è comunque decisamente più forte dell'altra. C'è con un po' di cecchini che danno quel boost dalla distanza. Mentre questi sono ottimi davanti come tank. Questa cosa la odio tantissimo. Ah, che palle. E' normale che facciano così, eh. Sono io che ho sbagliato. Però uno spera sempre non accadano queste cose. Poi non muoiono neppure perché sono fortissimi. Però... Ok. Allora. Questo è il bordo della mappa. C'è l'ordine. Fuori di domanda. Comandante? Comandante? Com'è l'ordine? Com'è l'ordine? quelli non sono infetti sembrano infetti ma non sono infetti va bene allora questi li mettiamo qua possono passare? si possono passare perfetto qua dove cacchio è che pesco? pesco qui ok ok ma che cacchio è fatta sta mappa? cioè sono aderente al muro cosa devo fare? il nostro building è stato attaccato ok qua manca tutto praticamente ora manca solo il ferro? no manca anche la pietra allora qua possiamo andare a recuperare un sacco di risorse perfetto perfetto ok 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 Grazie a tutti Ok va bene Non penso di voler andare più avanti Ma qua non avevo operato praticamente mai la legna Bella mossa Ok 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 Io non ho il totto Ok E poi stanno sparando di brutto Ok E quindi tutta sta parte di mappa l'abbiamo sistemata Ok È l'ora di andare alto Ok 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 Ma da qua Da dove cacchio sono passati Forca miseria Oh È assurdo Da qua Per forza Per forza Kitta Kitta Ammazza Mazzamazzamazzà Ok perfetto Da qua arrivano No, vabbè 3.000 oro Vedo il papa La papa Da qua a qua Da qua a qua Perfetto Ok Dai che ci siamo Potenziamo queste robe La mappa è quasi pulita Mancano sei giorni nella prossima ondata Ora Tesla Towers come se più esse Non si vede Non si vede letteralmente niente Ok Posso mettere niente Così da bene Pesca Potenzio Potenzio questi Potenzio queste Non mi interessa Non mi interessa le vespe in questa mappa Vorrei fare Vorrei fare la fonderia Quindi qua c'è un bordo mappa Bene Bene Qua c'è un bordo mappa Quindi qua non c'è un bordo mappa Va bene Dio 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 Andro Dio 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 Noi forci sono in danger Nothin' better than to do some brains Who do you want me to punish? All right All right Yes, tell me what to kill Cento di pietra Prossimo tic Costruiamo la meraviglia, dai Manca solo un po' d'oro Allora La piazziamo qua Al mezzo Comunque la mappa è davvero gigante Questo è il bordo mappa Attention, building completed Attention, building completed Anche il fatto che le mappe sono grandi Effettivamente rende il tutto più difficile Perché prima di arrivare al bordo mappa Ci si mette un botto Eeeh Adesso Siamo al posto per un bel po' Un trovo Ok Ok Un po' ...reporting for duty. Hm. Attenzione, building of duty. Allora, la mappa sono 64 giorni, quindi la prossima ondata non è quella finale. L'unica cosa che devo fare per la prossima ondata è... ...essere sicuro di avere la copertura delle Tesla Towers. Così poi posso difendermi, se no. Ovviamente non si può. E poi per esempio Est, che cacchio vuol dire? Qui, qui. Non lo sappiamo. Quindi c'è anche questa incognita. Sniper è pronto. ... 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 Buonanotte! 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 Adesso ho aumentato un po' la produzione di pietra che è l'unica cosa che mi serve, per la verità Allora, qua come riesco a metterne solo uno per metterne uno qua Buonanotte! Buonanotte! Mmm Vediamo se ce ne stanno due Allora 1 2 Qua 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 Ora 10 ore Ora Nord che cacchio vuol dire? Sembrava sempre al solito punto Ovviamente di pietra ora non ne ho Grande Allora, compra tutta la pietra del mondo Vende il petrolio Vende il ferro Vende il ferro è stato stupido? No, perchè questo non serve il ferro Bene Allora Qua 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 Non è possibile che sono sempre In una situazione dove non ho risorse Quando ci sono le ondate Cos'è che ho appena costruito? Cos'è che c'è in costruzione? Il magazzino? Queste? Sì, in realtà un po' di roba 9 ore Per quanto cacchio c'è il ticket qui? 14 ore il treno No, non va bene Qua manca poco perlomeno E poi ho deciso di distruggerla Per vedere com'era Non possiamo essere sempre in questa situazione del cacchio Una mappa senza pietra Accidenti Cosa dove serve di più Per 5 ore Vediamo cosa riesco a fare Avrò bisogno di questo Serve anche il legno Perché questa comunque Comprano un po' di tempo Ma non ha sufficienza Due ore Due ore Sette ore E qua il ticket fra un botto Come il cavolo lo recupero l'oro O distruggo questa Per forza ragazzi Può essere usata come banca Per le risorse È vero che ne butti via la metà Diciamo che finora l'ho sempre fatta Ma l'ho sempre distrutta Allora Secondo me attaccheranno più di qua Che ne so Potrebbe essere da tutte le parti Allora Ognuna costa 10 di petro 10 di legno Adesso solo queste devo costruire Nient'altro Quindi Arriviamo a Davvero la stessa quantità Così ne posso fare 8 Ma ne posso fare solo 2 in realtà No neanche una Allora 3 Un'altra torre Saranno mai pronte nel tempo Aura Utile Questi sono arrivati nel momento Ecco guarda Il punto più indifeso Il punto più indifeso Che sfiga Troni O Sarà un massacro No ce la facciamo dai Però Porca miseria Oddio santo Ok fatto Dai In realtà hanno attaccato anche da questa parte Mi hanno Distrutto qualcosa Perché è qua tutto spento Cos'è che Rutto Va bene dai ci salutiamo qua ragazzi Prossimo episodio Finiamo la mappa Dobbiamo semplicemente difendersi a tutti i lati Se metto giù le torri Siamo a posto Non so se la meraviglia è stata Uno spreco di tempo o meno Non ne ho la minima idea Non so valutare questa cosa Perché più che altro Quello che davvero ci serve È la pietra Niente di più Niente di meno Di oro ne facciamo Quello che mi serve È solo la pietra Adesso ci chiudiamo qua Ci chiudiamo qua 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 non ho la minima idea Di dove chiudermi Penso che mi chiuderò qui A questo punto Perché Tanto qua Non mi Ho risorse che non mi servono a nulla Quindi tanto vale Chiudersi un po' più indietro Facciamo qui Però non so da che parte arrivano Facciamo dietro questo Qua Ci chiudiamo qua Qua Nord Beh Facciamo comunque Una cosa simile Le torri sono fortissime Ci sono quelle che ci hanno salvato Ci vediamo nel prossimo episodio Gigi a tutti